Giovedì, giovedì 29 ottobre 2015, buongiorno a tutti, ben ritrovati, questa è la rassegna stampa di Fano TV come sempre alle 7.30 in diretta con tutte le repliche che si susseguono fino alle 8.30 poi alle 9.10 e alle 13.30, dunque un caro saluto a tutti quelli che ci seguono in tutte queste fasce orarie durante la giornata, durante la mattinata. La rassegna comincia sempre con il Santo del Giorno, oggi la Chiesa tra i tanti Santi ricorda anche la Beata Chiara Luce Badano che è una giovane focolarina ma sono tanti i Santi che la Chiesa ricorda oggi. La Beata Chiara visse a Sassello con il padre Ruggero che era un camionista e la madre Maria Teresa Casalinga. È una bella storia quella di questa ragazza che se volete potrete approfondire. È stata beatificata il 25 settembre del 2010 presso il Santuario del Divino Amore in Roma. Il sole è sorto alle 6.39, tramonterà alle 17.04 minuti. Adesso andiamo a vedere il tempo, avremo oggi una giornata di cielo nuvoloso con addensamenti comuniformi più consistenti nelle zone dell'entroterra, precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio di temporale, i fenomeni saranno in esaurimento durante la serata, le temperature sono stazionari, eventi deboli, il mare sarà mosso con moto ondoso in aumento. Attenzione alle foschie e banchi di nebbia che sono già presenti lungo le vallate. Per domani, venerdì 30 ottobre, il tempo migliora durante la notte e la mattinata, ancora nuvolosità con addensamenti più consistenti nell'entroterra, rovesci sparsi durante la notte e al primo mattino di domani. Le temperature sono senza variazione di rilievo, i venti in nord orientale, il mare molto mosso, mentre per sabato 31 ottobre, cielo sereno poco nuvoloso, con temperature in diminuzione, i venti da settentrione, il mare sarà mosso. Ma il tempo migliora perché poi arriva questa rimonta dell'alta pressione che favorirà un aumento della stabilità per la giornata di domenica e l'inizio della prossima settimana. Valentino Rossi, Valentino Rossi verso Valencia, il lottatore si riposa, palestra, poi il ranch con gli amici, l'imperativo è stare tra la gente di assoluto affidamento, ha bisogno di affetto, ha bisogno di calore, ha bisogno di amore. Valentino Rossi, il suo hobby è quello di stare in pista, pista sterrata il sabato prima della domenica libera. Qualcuno nell'entourage tace, non parla, però si è rammaricato di averlo lasciato solo laggiù in Oriente. Poi il Carlino parla di questo patto di Andorra, tanto per aumentare la tensione, la suspense, sta prendendo piede infatti l'esistenza del cosiddetto patto di Andorra, che sarebbe l'alleanza stipulata fra Lorenzo e Marquez per far perdere il mondiale appunto Valentino Rossi. e si sarebbero incontrati appunto segretamente in Andorra. La finanza ieri, siamo sulla pagina di Fano del resto del Carlino, si è presentata all'extraspa, la palestra che si trova in località Gimarra. Franco Usai però è il titolare del marchio Faster Fit e dice no, quella presenza, cioè la presenza della finanza è solo una coincidenza. La visita delle Fiamme Giale infatti c'è stata, ma non c'entra nulla con la chiusura. E poi dice, tuteliamo gli abbonati, vogliamo come Vittoria SRL, dice Fusco della società Vittoria SRL, informare le opinioni pubbliche che mai si è ventilata l'idea di far perdere alcuna somma agli abbonati. E in arrivo Halloween solidale, gli alimenti da donare alla Caritas. Dunque niente dolcetto scherzetto, i giovani della parrocchia di San Cristoforo di Fano dalle 15 alle 17 di sabato 31 ottobre busseranno nelle case e chiederanno semplicemente di donare alimenti a lunga conservazione da devolvere alla Caritas parrocchiale. Un'iniziativa che lo scorso anno ha coinvolto una ventina di ragazzi che questo anno ne ha già appassionati il doppio. Vi ricordo che Televoce Cristiana invece, Televoce Cristiana il giorno sabato 31, dalle 9 di sera fino alle 7 di mattina sarà in diretta tutta la notte, ininterrottamente, ogni ora con il rosario e la coroncina della Divina Misericordia. E poi leggerà, le persone che si alterneranno durante la giornata, leggeranno la vita dei Santi. Quindi tutta la notte in diretta dalla cappellina di Televoce Cristiana. Poi l'altra pagina del, finalmente, del resto del Carlino, finalmente si occupa del viadotto, del viadotto a Cagli. Forse la fotografia vi aiuta a capire di quale stiamo parlando. Partono finalmente i lavori per sistemare questo buco. Io pensavo, ci passo spesso per andare anche a Roma, e dico chissà come mai è chiusa questa galleria o comunque si va a sesso alternato. Poi ho capito, e oggi vedo questa fotografia, che c'è un buco, chiaramente in un viadotto, quindi non è che si chiude con soltanto un po' di asfalto. Bisognerà sicuramente mettere tutto in sicurezza, quindi ci vorrà un mese, almeno questo è quello che scrive questa latina del giornale, 40 mila euro la spesa, il costo del progetto per sistemare questo buco, e un mese di lavori. Insomma, i lavori partiranno il 20 di novembre, la previsione è di concludere appunto dopo un mese. L'altra pagina del giornale invece si occupa di cronaca, un attacco cardiaco nel alto mare, salvato dal 118 della Guardia Costiera, un marittimo di 57 anni che si è sentito male sulla piattaforma. Minuti preziosi in questi casi, però tutto è andato per il meglio, grazie anche a una motovedetta con un medico a bordo che è intervenuta in fretta. Vendeva l'amaro del finanziere, magari qualcuno di voi l'avrà anche assaggiato, così come quello del carabiniere, ma senza permesso. Dunque è stato denunciato, anzi denunciata, perché si parla della ditta, una ditta di Acqualagna, la Maior Liquori, sequestrate molte bottiglie per ogni utilizzo commerciale, è bene sapere che quando si utilizza scritte oppure stemmi, dove ci sono, ci sono stemmi dello Stato, serve una speciale autorizzazione, cosa che invece non aveva, quanto pare, la società, questa azienda di Acqualagna. La bevanda alcolica era commercializzata con stemmi inequivocabili, in effetti basta vedere, insomma, qui c'è l'immagine di un carabiniere, scusate, di un finanziere, e qua sopra invece, vedete, un carabiniere, addirittura mi pare sia un'alta uniforme, quindi. Adesso andiamo sul Corriere Adriatico. Allora, il Corriere Adriatico, la pagina di Pesaro, apre con la cronaca, e questo signore, questo Giorgio, si chiama Giorgio Cesaretti, di 73 anni, che è titolare con la figlia di un bar e sala slot machine Mi Vida, che ha sentito i ladri, ha preso il fucile e ha sparato. Chiaramente non voleva, penso, ammazzare nessuno, però mettere in fuga sì, e l'ha fatto. Ha messo in fuga tre malviventi, nonostante le sue grida, questi continuavano a rubare tranquillamente. Allora, siccome questi continuavano a rubare, anche sentendo che c'era qualcuno che stava orlando contro di loro, loro continuavano indisturbati. Allora, lui ha preso il fucile e ha cominciato a sparare. Questi, lui ha sparato due colpi rivolte a terra, che hanno spaventato i banditi, che però erano armati di estintore per creare una nuvola di polvere. Questi hanno usato l'estintore, e quindi hanno oscurato l'area, hanno fatto sì che il signore con il fucile non li vedesse più, e quindi poi sono scappati. Questo invece è un crocefisso in vetro e cristallo che lì vi porterà Papa Francesco, l'imprenditore peserese, sarà sabato in udienza privata con Lucid. Lucid è l'unione cristiana di imprenditori e dirigenti d'azienda. Fa sei al gioco giocailotto, sì, nella tabaccheria nuvole di fumo, siamo in Valle Foglia, e vince quasi 107 mila euro. Il fortunato non si tradisce e nemmeno al momento ringrazia. Per il futuro del CRAS, tutte queste sigla, allora, CRAS è il centro di recupero animali selvatici, la parola adesso passa all'assessore Pieroni. C'è stato un incontro in regione con le associazioni, riconosciuta l'istituzione L'Eccellenza e la Valenza Marchigiana. Chiediamo che ci sia la nostra sigla al momento del passaggio di competenze dalla provincia alla regione. La pagina di Fano, invece, in municipio, in comune, piove in 10 punti diversi e quindi urgono i lavori. Stanziati 150 mila euro al fine di impermeabilizzare il tetto e si procede senza un bando, senza bando, con una negoziazione. Importante che non piova. Semplifichiamo, ma gestiamo in house. Il sindaco Seri conferma l'obiettivo della fusione con delle due società Aset. Mi può fermare, dice, solo Renzi. Tra un mese il piano industriale e a dicembre la scadenza del CDA della holding. Ora, quindi, si va veloce. La scuola per Carristi e un museo. Sono due impegni contenuti nella mozione unitaria per il Consiglio Comunale. Si è lavorato su due testi del centrodestra del Movimento 5 Stelle con la mediazione di Marchegiani. I maestri creativi, intanto, attendono la convocazione, dunque attendono che l'ente carnevalesca convochi i carristi che hanno presentato un progetto per la prossima edizione del Carnevale di Fano. da Serungarina, sempre sul Corriere, acqua da Rubinetto per la mensa scolastica, un nuovo progetto educativo a Serungarina, insegnare ai bambini il valore delle risorse. A Senigallia, invece, tentò di ricattare su Skype un ricatto a luci rosse e un giovane è finito a giudizio. È successo la sera del 21 ottobre del 2012. Tentò un ricatto a luci rosse. Poi crolla il soffitto, negozio inagibile per mesi, un commerciante offre alla Bottega Verde la possibilità di trasferirsi in un locale in Piazza Roma, bella questa cosa di solidarietà, poi insultata da un parcheggiatore abusivo, finisce all'ospedale. Una donna scrive al sindaco di Senigallia, Mangialardi, che la invita a sporgere denuncia. Un fenomeno ormai finito, quello dei parcheggiatori abusivi è davvero, è così, è finito, fuori controllo. Chiudiamo con il messaggero. Anche qui la storia, la storia di questo gestore che ha urlato ai ladri, poi ha sparato. Notte di paura a Villa Fastigi, il titolare del bar Mivida si è affacciato dal balcone e ha affrontato i banditi. Danno e beffa. La polizia mi ha ritirato la licenza di caccia, mi hanno detto anche che mi prendo una bella denuncia penale. Io lo so che adesso vi state arrabbiando, che state imprecando, però è così. Scavolini, il mio aiuto per migliorare l'immagine della città di Pesaro. Vecchio palasporto, l'imprenditore si dice entusiasta del progetto, mi auguro solo che tutto vada in porto nel migliore dei modi. E' anche vero che non si può fare giustizia da sé, insomma. Però, nuove regioni, l'Emilia Romagna fa paura. In Parlamento torna alla ribalta il progetto del Partito Democratico che prevede il passaggio di Pesaro Urbino sotto il capoluogo di Bologna. Carloni dice vogliono smembrarci, Cecconi, Assurdo, Ricci nega, le Marche unite con Toscana e Umbria. Questa è la cartina così come il Partito Democratico vorrebbe disegnarla, vorrebbe che si attuasse. Ecco, Emilia Romagna con la provincia di Pesaro Urbino. Noi siamo qua, adesso la facciamo rossa così, ecco, noi siamo qui. Ovviamente, spostate un po' più su, se no siamo né di qua né di là. Vabbè, comunque avete capito. Noi siamo, ecco, lì. Va bene? E quindi stiamo con l'Emilia Romagna. Poi il resto invece va a finire con l'Abruzzo, eccetera, eccetera. Questo è quello che vuole fare il Partito Democratico. Poi, Bed and Breakfast sulla pagina di Fano, uno su dieci evade l'imposta di soggiorno, lo denunciano gli albergatori e che parlano giustamente di concorrenza sleale. Il Comune ci rimette 40 mila euro all'anno, il Sindaco Seri promette, presto saranno presi dei correttivi. Ambito sociale, il Comune liquiderà parte delle fatture, groviglio di richieste interrogativi per l'assessore Barnesi. Domani se ne discuterà nella seduta di congiunta di due commissioni consigliari. Poi, truffa dei telefonini, con i telefonini condannato un cantante, è una vicenda di qualche tempo fa, e poi i bambini della Gentile ripuliscono l'area verde. Il Liceo Torelli e il Museo della Scienza confermano il rapporto di collaborazione. La rassegna stampa finisce qui. Come sempre, grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a questa sera alle 20.30 con Occhio alla Notizia. Arrivederci.